Victor Embling, ambasciatore della Germania in Italia. Voi di recente avete pubblicato un bel sondaggio dal titolo simpatico Non fare il tedesco, che dimostra come gli italiani abbiano una buona predisposizione nei confronti della Germania, ma magari credono di conoscere più di quanto non conoscono. In che cosa, secondo lei, gli italiani hanno una percezione distorta della Germania? Una delle risposte è che si vede la Germania come un egemone europeo, un egemone che è anche un po' egoista, che pensa soprattutto ai suoi interessi. Questo ci dimostra che è veramente importante conoscerci meglio, perché se si conosce la Germania si sa che il tema europeo, l'integrazione europea per questo paese che è al centro dell'Europa è di estrema importanza. È forse il tema più importante di tutta la nostra politica, questa integrazione. È il nostro interesse nazionale, un'integrazione forte. Allora, lì credo che sia importante conoscerci meglio la vicenda. La Germania è veramente in primissimo luogo europea. Vedo l'Europa come la soluzione dei problemi che abbiamo, non vedo l'Europa come il problema, come alcuni piace fare così, vedere. Se non troviamo risposte europee saremo molto più deboli nel commercio, nella migrazione, nel tema del cambio climatico, della lotta contro il terrorismo. Siamo tutti troppo piccoli, anche la Germania è un paese piccolo a livello mondiale. Solo l'Europa unita ci può portare a dei risultati buoni, importanti per la nostra cittadinanza.